Siamo passati adesso all'azienda Vitivinicola Ridolfi Montalcino, come vediamo già qui è tutto ben allestito, sono con Gianni Maccari. Dunque, parliamo un pochettino dell'azienda, conduzione familiare, molto spesso ci sono aneddoti interessanti in ogni azienda ed è giusto conoscerli. Qui la storia di che cosa parla? Qui è una storia abbastanza giovane perché è un'azienda che è partita nel 2011, è stata acquistata da un imprenditore vicentino, Giuseppe Valte Peretti, che ha comprato l'azienda nel 2011 e nel 2014 ci siamo sposati con un progetto comune. Anche io sono entrato in un'azienda e ho iniziato a lavorare in questa azienda come fosse un'azienda biologica perché noi siamo comunque un'azienda biologica già dall'inizio, anche se poi ancora siamo in conversione, ma già dall'inizio, dal 2014, abbiamo iniziato a fare un lavoro soprattutto importante in vigna e in cantina. Ma soprattutto si parte dalla vigna dove si parte da un prodotto scelto, mirato, ma soprattutto su lavorazioni particolari, sulle sovesci particolari, la prima cosa, oppure anche concimazioni solamente naturali, senza nessun tipo di concimi chimici o diserbanti, insetticidi. L'idea è quella di portare su un'azienda, è stata subito dall'inizio, di portare su un'azienda da zero a essere un vino importante, qui si porta via sulla tradizione di Montalcino, con la mia esperienza abbiamo portato i vini in un modo tradizionale, avendo lavorato tanti anni con uno dei più grandi enologi importanti toscani, Giulio Gambelli, questa storia di portarla avanti come fosse una tradizione. E niente, siamo partiti comunque facendo lavori in cantina come vecchio stile, ancora facciamo in cantina la vecchia idea, quella di fare 36 mesi sul Brunello o 12 mesi di botte sul Rosso, quindi proprio per affinare con calma il tangiovese in botti grandi. Walter Peretti ha fatto un investimento importante nell'azienda, abbiamo ristrutturato tutta la cantina, tutto è stato rifatto con sistemi abbastanza moderni, perché come dico sempre, sì la tradizione va benissimo, ma sempre cercare dell'innovazione, questa è la mia storia idea. Ecco, che cosa proponete quest'oggi? Oggi abbiamo qui il Rosso 2021, il Rosso Montalcino 2021. Ecco, facciamolo vedere anche la bottiglia. Questo è un Rosso che, come dicevo, non è un Rosso di secondo livello, ma per me il Rosso è molto importante, perché è il biglietto della visita poi per poter proporre un ottimo Brunello, quindi se parti con un Rosso spettacolare, l'idea mia è quella che comunque il cliente finale comprerà anche il Brunello della solita annata. Il Rosso viene fatto con le solite uve del Brunello, quindi la scelta iniziale e la vinificazione è la stessa. L'unica differenza qual è? L'invecchiamento. A 12 mesi di legno viene scelto quali sono le botti più giuste da mettere insieme per fare il Rosso, così per dare comunque una caratteristica. Come dico sempre, quando andiamo a scegliere le botti più importanti, che si fa? Si sceglie sempre le migliori, perché sono quelle più pronte, quelle più perfette per essere bevute subito. Ecco, e poi qui invece passiamo ai Brunelli, vedo. Qui abbiamo due tipi diversi, parliamone e vediamo quali sono anche le differenze. Allora, questo è un Brunello di Montalcino di annata. Come dicevo prima, il Brunello lo facciamo stare 36 mesi nelle botti grandi. Tutto quanto le botti scelte e rinnovate, perché come dicevo la cantina è ripartita da zero nel 2014, quindi tutto e tutte le botti nuove. Abbiamo fatto scelte importanti su almeno 5 produttori importanti del mondo dei legni mondiali. E questo proprio serve a dare un'impronta. Ogni botte dà qualcosa di differente nel mix. Come dico sempre, usiamo 20-22 botti per fare il nostro Brunello totale, che sono 80.000 bottiglie. Quindi è importante avere dei legni perfetti. Ecco, passiamo invece all'ultima bottiglia, la terza. E qui abbiamo sempre un Brunello? Allora, questo è un Brunello riserva, riserva 2017. E questo è, come dico sempre, noi lasciamo una botte migliore di cantina, quindi ogni selezione viene fatta dalla botte, quindi non c'è una selezione da vigna, da cantina dopo, di vinificazione, ma alla fine. Alla fine, come dicevo prima, quando scegliamo tutti i nostri Brunelli, il Brunello che viene fatto, lasciamo una botte, la migliore, ancora per 54 mesi. Quindi alla fine fa un altro anno e mezzo oltre il Brunello. E questo è importante perché per me, da tradizione, il Brunello deve stare, il Sangiovese deve stare in botte. Ecco, tutti questi vini con che cosa possiamo accompagnarli? Un buon pasto corposo? Sì, si può partire già anche dal rosso, a usarli anche con la carne, senza problemi. Certamente andando verso la di serva si va verso la selvaggina, fare qualcosa più importante, tipo un cindiale o qualcosa del genere, quindi va molto bene. Ecco, allora grazie mille a Gianni Maccari e ovviamente in bocca al lupo e buon futuro per l'azienda vinicola Ridolfi Montalcino. Proseguiamo adesso il nostro viaggio negli stand, ringraziamo ovviamente Gianni e adesso proseguiamo.